Oggi andiamo a vedere una lezione che si intitola Un movimento della mente, del 24 novembre 1969. Nel 33esimo capitolo del libro di Giove ci viene detto che Dio parla all'uomo in due modi, ma l'uomo non li percepisce. Viene detto che in sogno, in una visione della notte, quando il sonno profondo cade sugli uomini mentre dormono sui loro letti, egli apre le orecchie degli uomini e sigilla le loro istruzioni. Ditelo a uno psichiatra e poiché egli separa il sognatore da Dio, vi dirà che tutti i sogni vengono dal singolo sognatore e non da Dio. Ma io vi dico, il nome eterno di Dio è Io Sono. E se chiedessi chi sta sognando il sogno, l'individuo non direbbe Io Sono. E non ci è stato detto che questo è il nome di Dio per sempre? Non si può separare il sognatore da Dio e tutti i sogni procedono da lui. Alcuni sono semplici e non hanno bisogno di interpretazione, invece altri sono rivellanti in un linguaggio simbolico e hanno bisogno di un interprete, come ci insegna la storia di Giuseppe. La sua vera identità fu rivellata quando guarda i volti di coloro che avevano fatto un sogno e vide che erano turbati perché disse «Le interpretazioni non appartengono forse a Dio? Ditemi il vostro sogno». Allora interpretò i sogni del maggiordomo del panettiere e persino dello stesso faraone. Tutti si avverarono proprio come aveva detto. Ora, se solo Dio può interpretare un sogno, perché dirlo a Giuseppe? Perché è una personificazione di Dio e il suo nome fu cambiato da Giuseppe che significa salvezza a Giosuè che significa a Geova e la salvezza. Ora, nel 1954 mi svegliai da un sogno sentendo queste parole «Tu non ti muovi durante la veglia più di quanto ti muovi sul tuo letto durante il sonno. È tutto un movimento della mente. L'intensità è determinata dalla forza del vortice che si crea, che è proprio come un vortice con un centro di perfetta immobilità. Tu credi di muoverti solo quando sei sveglio, come credi di muoverti nel sonno». «Bene, io sono un essere razionale e la ragione non poteva accettare questa affermazione, ma la scrissi e la messi nella mia Bibbia per aspettare ulteriori rivelazioni». Gli psichiatri direbbero che questo messaggio veniva da me stesso. Non lo nego, ma so che veniva da una profondità del mio essere che la mia mente razionale non raggiunge. «Oggi i nostri tre astronauti sono tornati da un viaggio di mezzo milione di miglia. Tu e io siamo venuti qui stasera nelle nostre auto e nel corso della mia vita ho viaggiato per tutto il mondo in navi e aerei. E come Blake, nei miei sogni, ho viaggiato attraverso una terra di uomini, una terra di uomini e anche di donne. E ho sentito e visto cose così terribili che i vagabondi della fredda terra non hanno mai saputo. Tutti abbiamo viaggiato, eppure io so che ho sentito e scritto. So di aver viaggiato nei miei sogni, eppure so di non aver lasciato fisicamente la mia stanza, perché quando mi sono svegliato la mattina ero ancora sul letto su cui mi ero addormentato. Allora vi chiedo, questo stato di veglia non è altro che un sogno? C'è un sognatore nel profondo del mio essere che guarda questo mondo come un sogno, così come io che, dopo essere andato un po' più in profondità del sogno della notte, mi sveglio per scoprire che non ho mai lasciato il mio letto all'alba. Paolo ci dice che siamo nati di nuovo per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ricordo quella notte perché mi senti svegliare da un suono molto, molto profondo, sentendo una vibrazione che sarebbe centrata nella mia testa. Sembrava venire da fuori. Poi mi svegliai all'interno del sepolcro, il cranio in cui ero sepolto, per uscire e trovare tutto il simbolismo del mistero cristiano che mi circondava. Ho visto il bambino avvolto in fasce e i tre testimoni dell'evento. Anche se non mi avevano visto poiché ero spirito, i testimoni parlavano di me come il padre del bambino, il segno che il mio salvatore era nato, adempiendo le scritture. Questo sarà per voi un segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Quella notte mi svegliai da un livello molto più profondo del mio essere per trovare il simbolismo del mio risveglio dal sogno della vita, proprio come giorno dopo giorno mi sveglio dal sogno della notte. Quindi potrebbe essere che la rivelazione che ho sentito nel 1954 sia letteralmente vera? La ragione lo mette in dubbio. La ragione ne dubita e la ragione lo rifiuta. Quindi se la visione è vera, allora la ragione rifiuta Gesù Cristo, perché Gesù Cristo si definisce come la verità, dicendo io sono la verità. Se la rivelazione è vera e la ragione la rifiuta, la ragione non è forse satana, quello che dubita. Questa affermazione non può essere dimostrata logicamente. La sua verità deve essere sperimentata. L'avevo completamente dimenticato fino a quando oggi ho scoperto la mia nota mentre guardavo nella mia Bibbia dell'Interprete. Ed ero lì, la nota che ho scritto il 28 novembre 1954. Tu non ti muovi durante la veglia più di quanto ti muovi sul tuo letto durante il sonno. È tutto un movimento della mente. L'intensità è determinata dalla forza del vortice che si crea, che è proprio come un vortice con un centro di perfetta immobilità. Tu credi di muoverti solo quando sei sveglio come credi di muoverti nel sonno. La scrittura parla di due età, quell'età delle tenere e della decadenza, e quella della luce e della vita eterna. Quest'epoca è quella del movimento e della violenza, delle turbulenze e delle tempeste, poiché il sognatore negli uomini dorme profondamente e non sa di essere Dio. Nel Salmo 44 tuttavia viene esortato «Svegliati! Perché dormi? O Signore, svegliati! Non ci cacciare per sempre!» Mentre occupa il suo sogno, Dio ha la sensazione del viaggio, del movimento e della violenza, ma quando si sveglia si troverà nel sepolcro, il cranio dell'uomo, dove si è deliberatamente adagiato per dormire ed è stato sepolto. Dio si è crocifisso sulla croce dell'uomo e sta sognando questo sogno di vita affinché l'uomo possa diventare Dio. Ora voglio chiarire alcuni punti. Nel libro di Giovanni viene fatta questa dichiarazione. La sua voce non l'avete mai udita, la sua forma non l'avete mai vista, né la sua parola rimane in voi perché non credete a colui che egli ha mandato. Molti di voi hanno accettato completamente il fatto che sono stato mandato. Mi credete quando vi dico che sono stato alla presenza del Signore risorto, che mi ha abbracciato e che con Lui sono diventato uno. Essendo stato incorporato nel corpo dell'amore, Dio, onnipotente, mi ha mandato a raccontare la mia esperienza. Avendo accettato le mie parole, molti di voi hanno avuto un'esperienza sessuale con me, in visione, e l'hanno interpretato come un'esperienza fisica su questo livello. Ma non lo è, poiché questo è un mondo d'ombra. La vostra accettazione ha portato a questa unione, eppure io, l'oratore, ne sono talmente all'oscuro. La vera gioia di Cristo che vi ha portato è stata resa viva in voi. Fiorirà col tempo e la vostra esperienza delle scritture sarà identica alla mia. I maschi che hanno accettato completamente le mie parole non sperimenteranno un atto sessuale, ma un abbraccio, indossando il corpo del Signore risorto, che è l'amore infinito, e con il quale io sono ora uno, vedrete il mio volto. Vi sarà chiesto di nominare la cosa più grande del mondo, e con me divinamente ispirarti. Citerete le parole di Paolo che dicono fede, speranza e amore. Questi tre, ma il più grande di questi, è l'amore. Io vi abbracerò e voi vi fonderete con il solo corpo del Signore risorto, e chi è unito al Signore diventa solo spirito con Lui. Tutti questi sono simboli che vi dicono che, avendo creduto a Colui che Gli ha mandato, sentirete la Sua voce e vedrete la Sua forma, poiché la Sua parola ora divora in voi. È una rottura completa con il passato. Come ci viene detto nelle prime parole che il Signore risorto ha pronunciato nel libro di Marco, convertitevi e credete al Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che l'uomo non è perduto, che la scrittura non è storia secolare, ma storia divina, che è stata tramandata e pianificata prima che noi uscissimo dal Padre e venissimo nel mondo per entrare nella nostra creazione e recitare tutte le parti. È Dio che si risveglia in voi, un solo uomo che contiene tutto, è caduto nella diversità, come ci dice il Salmo 82. Io vi dico, voi siete dei, figli dell'Altissimo, tutti voi, tuttavia morirete come uomini e cadrete come un solo uomo, o principi. E qui Neville dice, ho citato la Reversa e Standard Version nella impostazione marginale che è la vera traduzione dell'ebraico. Ci vogliono tutti i figli che sono caduti per formare Dio Padre, così noi siamo riuniti uno per uno in quello stesso corpo che è caduto in umanità e dall'umanità Dio si estrae individualmente perché siamo tutti così unici. Nessuno può essere duplicato o perso perché Dio è sepolto in tutti e Dio si sta redimendo. Oggi ho visto l'emozionante atterraggio degli astronauti che hanno viaggiato fino alla Luna e hanno fatto ritorno. Poi ho riletto quello che avevo scritto nel 1954. Tu non ti muovi durante la veglia più di quanto ti muovi sul tuo letto durante il sonno. Ora la ragione non poteva accettare con l'affermazione ho visto gli astronauti tornare. Abbiamo una registrazione del loro viaggio di mezzo milione di miglia eppure si sono mossi? Beh, devo confessare che ho viaggiato nei miei sogni come sono sicuro che avete fatto voi. eppure noi ci svegliamo sempre sul nostro letto al mattino non è vero? Potrebbe esserci un sognatore molto più profondo di colui che sogna questo apparente stato di veglia? E quando si sveglia dal sogno della vita non lo guarderebbe forse come voi guardate il sogno della notte? Io so che quando mi sono svegliato dall'interno mi sono reso conto che ero stato lì per innumerevoli secoli sognando la violenza l'amore l'odio la concupiscenza e il dolore sognando che tutto fosse reale proprio come in ogni sogno mi ero svegliato per scoprire che ero stato in quel cranio per secoli sognando di essere un uomo che camminava sulla terra che moriva che veniva riportato in vita per morire di nuovo questo ho continuato a fare fino al momento in cui mi sono svegliato nel Golgotha il sepolcro dove sono stato sepolto all'inizio del tempo questo è il mio calvario mi sembra di muovermi qui mi alzo e mi rado al mattino faccio il bagno mangio mi sforzo di guadagnare un dollaro per pagare l'affitto e faccio ogni sorta di cose eppure è tutto un sogno un sogno con uno scopo Dio è arrivato al limite della contrazione e opacità chiamato uomo e ha cominciato a sognare questo mondo in essere ora credendo di essere voi potete fare sogni nobili o ignobili vi esortò a sognare solo nobili perché quando sapete di essere il sognatore potete realizzare tutti i vostri sogni il sogno è uno stato molto fluido sapendo cosa volete sognare portate la vostra cerchia interiore dei amici davanti agli occhi della vostra mente e permettete loro di vedervi come volete essere visti quando siete convinti che questo è un fatto rilassatevi nel periodo di gestazione della visione c'è un intervallo di tempo tra l'impregnazione e la nascita avendo visto le espressioni sui loro volti e sentito il suono delle loro voci rompete l'incantesimo e aspettate che l'impregnazione avvenga nel mondo dei sogni mentre voi vivete nel mondo di Cesare in attesa della sua venuta vi ho detto che la storia di Gesù Cristo si è dispiegata dentro di me quello che ho condiviso con voi stasera non è registrato nelle scritture ma nell'ultimo verso del ventunesimo capitolo di Giovanni c'è questa dichiarazione molte molte altre cose fece Gesù che non sono registrate qui se ognuno di esse venisse scritte il mondo stesso non potrebbe contenere i libri non c'era bisogno di registrare le parole che mi sono state rivellate quindi si è data l'ultimo verso dell'epilogo di Giovanni perché Giovanni finisce al ventesimo capitolo e il ventunesimo è l'epilogo tutte queste cose sono accadute e molte altre ma solo queste sono state registrate perché voi possiate credere grazie per aver condiviso le vostre visioni con me poiché mi dimostra che avete accettato completamente la storia come l'ho raccontato ho condiviso con voi la vera storia di Gesù Cristo nel corso dei secoli i ciripedi si sono raccolti intorno alla nave gli uomini nell'interesse delle proprie dottrine hanno fatto aggiunte alle scritture nonostante l'avvertimento di non aggiungere o togliere parole dalle profezie della Bibbia gli uomini hanno aggiunto per sostenere le proprie tradizioni e convenzioni quando il testo originale è stato scritto colui che ebbe la visione lo registrò semplicemente non lo capiva ma lo scriveva come ho fatto io sapendo che sarebbe arrivato una rivelazione più grande non potevo capire ciò che sentì nel 1954 ma nel 1959 conobi la sua verità perché mi svegliai da un sogno profondo per scoprire che non ero sul mio letto ma nel mio cranio e completamente solo uscendo dal mio cranio trovai il bambino avvolto in fasce e i testimoni dell'evento vedendo il bambino essi furono testimoni del segno della mia nascita spirituale ma non potevano vedermi come nato dallo spirito io sono spirito mentre loro non ancora nati dallo spirito sono carne io non ho partorito un bambino il bambino non è che un segno che Dio è nato avendo generato se stesso fa nascere ciò che ha sepolto nell'umanità perché Dio sta redimendo se stesso poiché c'è solo Dio nell'universo la Bibbia non ha niente a che fare con la morale come insegnata dai pulpiti non fa alcun tentativo di cambiare il mondo perché è un'aula di scuola non si trasforma un'aula di scuola in una casa questa è una scuola di tenebre istruita dove si viaggia verso la luce le scritture non cercano di cambiare le cose piuttosto esortano tutti a rendere a Cesare le cose che sono di Cesare cercare di fare di questo mondo un bel posticino dolce in cui tutti sono felici e hanno abbastanza da mangiare da bere va bene ma questo non ha niente a che vedere con il mistero di Cristo se non ci fosse lotta non si farebbe alcuno sforzo per risvegliarsi dal sogno della vita piuttosto il dormiente cadrebbe più profondamente nel sonno quindi che marcino pure dicendo al mondo come diventare buoni e gentili sono tutte sciocchezze perché finché l'uomo indossa l'abito dell'animale deve esprimerlo prendendo da sé il cuore e la mente dell'amore Dio ha preso su di sé il corpo il cuore e la mente dell'animale come ci dice il quarto capitolo di Daniele questo è un mondo animale ma mentre in questo mondo di violenza Gesù Cristo si sveglia per scoprire che era solo un sogno se non fosse che Gesù Cristo è in voi non potreste respirare perché il vostro stesso respiro è la sua vita verrà il giorno in cui ti sveglierai per sapere che questo è vero perché Davide la somma di tutte le esperienze che hai avuto nel tuo sogno di essere uomo sarà davanti a te e ti chiamerà padre allora realizzerai il Salmo 89 ho trovato Davide e lì mi ha gridato tu sei mio padre mio Dio è la roccia della mia salvezza avendo interpretato tutte le parti dell'uomo l'umanità fusa in un'unica giovinezza rivela la tua divinità come padre saprai che tuo figlio ha sempre fatto la tua volontà perché avrai trovato in Davide il figlio di Jesse io sono uno che ha fatto tutta la tua volontà tu il padre l'hai sognato e tu il figlio hai recitato tutte le parti e quando la comedia sarà finita ti sveglierai per uscire dal Golgotha e nascere dall'alto Pietro ci dice siamo nati di nuovo per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti mentre il mondo lo adora come qualcuno che viene da fuori tu lo troverai che risorge da dentro non come un altro ma come il tuo stesso sé il sognatore della vita il grande poeta Shelley lo vide così chiaramente quando disse si è svegliato dal sogno della vita siamo noi che persi in visioni tempestose manteniamo con i fantasmi una lotta senza profitto questo è ciò che fa il mondo combattendo fantasmi autocreati il mondo è te stesso spinto fuori e tu sei in conflitto con te stesso fino al giorno in cui un vento ultraterreno ti possiede e ti risvegli nel tuo cranio con il desiderio bruciante di uscire con la tua conoscenza innata spingerai la base del tuo cranio e qualcosa si muoverà allora uscirai come un bambino esce dal grembo di una donna ma questa volta stai nascendo non dal basso ma dall'alto dal teschio del sé la parola anotin è tradotta dall'alto quando pilato disse non sai che ho il potere di crocefiggerti o il potere di liberarti il risorto rispose non hai potere su di me se non ti è stato dato dall'atto ecco la stessa parola anotin il potere di uccidere o rendere vivo viene da dentro tutto si svolge dall'interno caduto in un sonno profondo tu sei il Signore Gesù Cristo che sogna il sogno della vita e siccome c'è solo un essere tutti si svegliano come Gesù perché tutto il resto svanirà e lascerà solo Gesù e nessuno può dire che Gesù è il Signore se non attraverso il vento santo quando questo vento ti possiede ti risveglierai in te stesso solo allora saprai di essere il Signore Gesù Cristo ora entriamo nel silenzio e con questo si conclude questa meravigliosa lezione io mi fermo qui e domani vi aspetto con altra saggezza grazie mille ciao grazie mille